Dal 28 giugno al 12 luglio si è svolto presso il plesso Gino Landolfi il progetto Un mare da mare, ideato e curato dalla docente Giuseppina Napolitano nell'ambito del piano scuola estate 2021, un ponte per un inizio nuovo. Il corso, ha dichiarato la dirigente Margherita Baldi, in coerenza anche con quanto previsto dal Ministero, ha inteso soprattutto dare ai bambini la possibilità di un recupero della socialità e della relazione, dello scambio e della dimensione dinamica della scuola, gravemente sacrificate nel trascorso anno scolastico a causa della pandemia. Allo stesso tempo la docente ha previsto come obiettivo prioritario l'educazione ambientale, anche promuovendo la conoscenza del proprio territorio. Le attività, ha aggiunto la dirigente, con taglio decisamente laboratoriale e cooperativo, hanno sensibilizzato pertanto alla salvaguardia dell'ambiente con lavori basati sul riciclo di materiali e si sono svolte in diversi contesti come Trentova e la Capitaneria di Porto. In tal senso, ha sottolineato la dirigente, si ringrazia per la proficua collaborazione il Circolo Legambiente Agropoli Stella Maris, Legambiente di Agropoli, nella figura del Presidente Mario Salsano e la Capitaneria di Porto di Agropoli. L'esperienza, ha concluso la dirigente, è risultata positiva per alunni e genitori ed ha rappresentato una significativa esperienza del ruolo e del valore della scuola, anche d'estate. È un dovere morale, oltre che un piacere trattare argomenti di questo genere, come il rispetto per l'ambiente. Ad affermarlo è la docente ed attrice del progetto, Pina Napolitano. Dal mare viene la vita, trattiamolo bene, sono le parole che dico sempre ai miei bambini. Abbiamo fatto diversi lavori, ha dichiarato, con materiale di riciclo, tubicini della carta igienica, piatti di carta, tappi colorati. Ad esempio, hanno realizzato le meduse con i piatti di carta e le buste della raccolta differenziata. I bambini si sono divertiti molto e anche i genitori hanno apprezzato il lavoro svolto. Si tratta di genitori attenti e coscienziosi. È stata un'ottima cooperazione con tutti loro. Sono stati tutti molto disponibili.